E' stata rinviata per questioni procedurali l'autopsia che era stata inizialmente calendarizzata per oggi sul corpo di Pierpaolo Panzieri, 27enne pesarese, ucciso una settimana fa nel suo appartamento di Via Gavelli. Un delitto che da mercoledì scorso vede in stato di fermo in Romania il trentenne Michael Alessandrini con l'accusa di omicidio volontario aggravato da crudeltà e futili motivi. Alessandrini si era dato alla fuga verso l'est Europa dopo un omicidio sul quale sono emerse le prime ammissioni di colpevolezza attraverso gli interrogatori dei magistrati romeni. L'autopsia resta però un passaggio chiave per comprendere la dinamica della morte di Pierpaolo Panzieri. Si sospetta che le prime coltellate possano essere state inferte alla gola, una dinamica che spiegherebbe la scarsa percezione del vecenato di ipotetiche urla che possono aver preceduto l'omicidio o una presunta colluttazione. Vicinato che però avrebbe riferito di aver udito rumori di pianti attorno alle 4 e 30 di notte. L'autopsia di certo non chiarirà però un movente che potrebbe invece essere dipanato dal viaggio verso Timigioara dell'avvocato Stefano Asole, legale difensore di Alessandrini. Una spedizione per la quale si attende il via libera della locale procura romena. Prematuro dire se si propenderà o meno per valutare perizie psichiatriche o un'eventuale strada difensiva dell'infermità mentale. Intanto le indagini a Pesaro stanno passando in setaccio, anche i computer, sia di Alessandrini che di Panzieri.